È un'istandazione audiovisiva capace di creare un impatto emotivo impetuoso nel pubblico, quella realizzata dagli studenti della terza A e quarta A, indirizzo scenografia, dal liceo artistico Stradivari di Cremona, coordinati dai professori Ardigo e Ferruzzi, opera allestita nel ridotto del Teatro Ponchielli, dove sarà visitabile fino al 2 ottobre. Si intitola dei respiri, perché il respiro è simbolo di vita, quello che è mancato dalla comparsa del Covid-19. La complicazione della contemporaneità, di questo luogo, di questo spazio, che ci ha visti tutti confinati in qualche modo e con l'impossibilità di relazionarci. Oltre al riferimento all'attualità, l'installazione è ispirata a Romeo e Giulietta, opera recentemente portata sul palcoscenico del Teatro Cremonese, nella versione degli attori Paola Gasman e Uo Pagliai. La tragedia shakespeariana è stata rivissuta dagli studenti come un cammino esistenziale negato e al contempo un atto d'amore. I ragazzi sono sempre entusiasti di partecipare a queste iniziative, però ovviamente l'iniziativa ha sofferto di questa scuola a distanza di due anni. Dei respiri testimonia l'interesse del Ponchielli per i progetti con i giovani. Quest'anno opereremo diritto di critica, tra l'altro, su tutte le stagioni. Già questa è una manifestazione di intenti, di voler aprire verso i giovani con questa videoinstallazione. Continueremo anche con opera domani e per quello che sarà possibile speriamo di farci venire nuove idee, nuovi progetti per l'anno che verrà. Gli orari di visita alla mostra sono disponibili sul sito web del Teatro.